Ho detto al direttore del Giro d'Italia che nel 48 a San Zalo passò la fiaccola olimpica di cui ancora si parla dopo 60 anni. Tu ti rendi conto di essere l'assessore allo sport che ospita questo evento, peraltro loro non escludono che si possa ripetere, di essere l'assessore allo sport che ospita questo evento che magari può rimanere nella memoria collettiva della città per altri 50-100 anni? Certo che mi rendo conto, adesso mi sto rendendo conto perché stamattina abbiamo avuto qua in comune i tecnici proprio della RCS, la Gazzetta dello Sport che sono venuti a visionare il percorso e il sito di partenza della tappa. E quindi ho visto che in effetti si sta concretizzando questo evento che prima sembrava un sogno. Solo in televisione. Solo in televisione e oggi siamo gli attori principali, cioè la nostra città è attore principale di questa tappa del Giro d'Italia che comunque a livello televisivo viene visto in tutto il mondo e quindi per la nostra città è un evento che come dici tu potrà rimanere nella storia. Non è un mio entusiasmo personale, sì, ma per la città, ma non per me stesso come persona. Certo, la mia partecipazione è totale, quindi io insieme a tutta l'amministrazione, quando ci è stato suggerito che ci stava questa possibilità, noi ci siamo dati da fare affinché veniva questo evento. Quindi oggi siamo veramente contenti per la nostra città di San Zao. Senti, tu hai passato con loro 7-8 ore di seguito, oggi ho pochi momenti, ma compreso questo evento che rivediamo dalle immagini. Insomma, mi sembra gente oltre che organizzativamente professionale, anche gente seria, di parole, che cerca di trovare le soluzioni, di avere un rapporto pulito, serio con la città. Sì, assolutamente, io ho visto veramente dei professionisti, gente serissima che loro hanno cercato in tutti i modi di venirci incontro per dare spazio alla nostra visibilità, della nostra città, e quindi hanno fatto di tutto per accontentarci, per mettere in ottima visione l'immagine che vogliamo dare della nostra città sotto l'aspetto turistico, perché questo, come dicevo prima, è un evento che viene visto da tutta Italia, da tutto il mondo. Quindi sappiamo che sono collegati 170 paesi con il Giro d'Italia, di tutto il mondo, quindi abbiamo cercato... Quindi 170 paesi, milioni di persone, vedranno partire il Giro dalla nostra marina. Poi? Sì, allora diciamo che il Giro d'Italia, la tappa parte dal lungomare di San San Marino, perché abbiamo voluto... Alle 13.01. Alle 13.05, diciamo, 13.05, almeno questo è il programma. Quindi a lungomare di San San Marino c'è la partenza ufficiale, risale la strada ex, strada provinciale di Buonanotte, perché da oggi stesso strada provinciale di Buonanotte, dietro alla nostra richiesta, è diventata strada comunale, quindi c'è stato il verbale di consegno oggi, quindi colgo l'occasione per dire anche questo. Arriva alla Rotonda degli Alprini, prende via San Rocco, sale su... Corso Umberto? Sì, via Fontana, Corso Umberto, attraversa... Passa qua davanti. Sì, va davanti al comune, fa tutto il corso Garibaldi, via Duque degli Abruzzi, via Estonio, e poi praticamente procede per Cupello, questo è il percorso. Ringraziamo l'assessore che in anteprima ci ha fatto sapere, ma già era stato... Ok, questo è quello che oggi avete stabilito, a meno che ci sono problemi tecnici che dovremmo verificare, però almeno questa è l'indicazione di massima e questa. Allora possiamo chiudere con questo, l'indicazione di massima della tappa sanzalvese, il passaggio a San Zalo del Giro d'Italia, è quello che ci ha appena detto l'assessore allo sport Angiorino Chiacchi. Grazie. Grazie a tutti.